Scusi Presidente, sono un operaio che ha colto il suo consiglio, sono andato al proprietario e ho detto che lei fa dei prodotti mediocri e ora non è licenziale. Bravo, ho fatto bene, bravo, bisogna protestare, bravo, sì. E sono venuto qua perché ho saputo che lei ha la fabbrica. Ah, la fabbrica di Nicky, no, ma la fabbrica di Nicky è un concetto liquido, orizzontale, verticale, senza formaggio, una rarazione di un racconto. La fabbrica è quella che c'ha lei, che dici che ha tante fabbriche, io faccio il tornitore, se ho metto i bulloni. Eh no, e cosa le devo far fare? Guardi, veramente, quelli sono dei concetti astratti, dunati. Non lo so, ma chi l'ha mandata qua alle due di notte, che poi venite sempre alle due di notte a me, diciamo. Eh non lo so, il sindacato mi ha detto di venire qua a citofonare, ha detto vai là che lui c'ha le fabbriche. Miau, miau, gattoianni, gattoianni, non fare i bisogni fuori dalla lettiera, per piacere. Adesso pure il gatto ti voleva, non ti sbassava il cane, anche il gatto. Mi scusi signor lavoratore, mi scusi. Eh sì, e lì si dovrebbe riciclare nel turismo. Nel turismo? Nella cultura. Nella cultura. Vabbè, faccio una cosa, presidente, ora torno dal proprietario della fabbrica, vediamo se mi riassumo e gli chiedo scusa. E c'è stato un brand in demand, pensavo che lì aveva le fabbriche e mi poteva assumere pure a me. Va bene, grazie. Gattoianni, gattoianni, scendi dal divano.